Ben ritrovati da MeteoInCalabria.it Persiste il dominio anticiclonico sul Mediterraneo centrale il quale favorisce bel tempo con temperature in continuo aumento per l'arrivo di masse d'aria calda africana Vediamo quindi le mappe in dettaglio Oggi cieli sereni ovunque, temperature in ulteriore aumento Domani bel tempo su tutta la regione le temperature continueranno ad aumentare in particolare nei valori massimi che torneranno a superare i 35 gradi nelle zone interne Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti Oggi mari quasi calmi con venti deboli a regime di brezza Domani mari calmi con venti deboli a regime di brezza E per ulteriori dettagli vi invito come sempre a consultare il nostro sito internet www.meteoincalabria.it Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione Apuntamento a domani